Ho fatto di tutto, non mi sentivo uno sfigato se uno fa canaria, anzi, qualunque lavoro uno fa, se lo fa bene, l'importante è che lo faccia con passione e con amore, non è che deve essere numero uno in Formula 1, deve essere numero uno per te stesso nel lavoro che fai.